La moto era la loro passione. Nei fine settimana Luca Carrer, 55 anni, e Patrizia Bisol, 57 anni, amavano salire sulla due ruote e girare nei territori del Veneto. Ieri la gita in direzione Feltre, ma arrivati in località Salzan, lungo la strada regionale 348, si è consumata la tragedia. La perdita di questi due sposi, diciamo, marito e moglie, così tragicamente, ha sconvolto proprio tutta la comunità di Vidor. Una comunità sotto shock, non riusciamo ancora a crederci, spiega il sindaco, che la coppia la conosceva bene, soprattutto Patrizia, che era originaria proprio di Vidor. Luca invece di Susegana, ma per amore si era trasferito. Ieri doveva essere una giornata spenserata sulle Dolomiti, in moto, e invece si è trasformata in una tragedia. I coniugi hanno perso la vita in un incente stradale. La due ruote, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata contro un camper. Sbalzati dalla sella, marito e moglie sono finite nell'altra carreggiata, dove stava sopraggiungendo un altro mezzo. Tremendo l'impatto, inutili tentativi di soccorrere Luca e Patrizia, sono morti sul colpo. Molto conosciuti nella comunità del quartiere del Piave, avevano due figli. Loro erano una coppia di sposi, così allegri, quando si aveva modo di vederli anche in occasione di festività, così, sempre molto allegri, sempre sorridenti, molto goliardici anche, diciamo così. E purtroppo questo non lo sarei mai aspettato. Luca lavorava come agente di commercio e le aveva lavorato in un'azienda, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la moto. Solitamente andavano via con altri centauri. Ieri avevano deciso di passare una giornata da soli, in sella, alle loro due ruote. Patrizia era molto attiva nella comunità. Faceva parte del coro parrucchiale, era una donatrice di sangue, dell'Avis, e poi anche partecipava, anche con la Proloco. I funerali, spiega il primo cittadino, potrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì.